Viene l'azione, intercettando il lancio. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing. Douglas Costa. Fred. Asley Young. Gabriel Jesus. Buon possesso palla, cercando spazi. Quadrado. Ottima occasione. E il pallone finisce in gol. Ne ha preso un altro, questa non è certamente la sua giornata migliore. Ovviamente il mono del portiere è delicato, grande responsabilità. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio.